La crisi adolescenziale e fisiologica. Ci si sente spesso inadeguati e insicuri con il corpo che si trasforma velocemente e la mente che corre per adeguarsi. Rientra tutto nella normalità, ma è proprio questo il momento in cui i giovani possono iniziare a fare uso di sostanze. Tiziana Amici, psichiatra e psicoterapeuta, autrice del libro Urgenza in Psichiatria, lavora in un SPDC, un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, in un'azienda ospedaliera di Roma e nel suo libro racconta di come l'età in cui ci si avvicina la cocaina sia scesa a 12 anni e il numero di minori che arrivano in pronto soccorso perché hanno fatto uso di sostanze siano quasi raddoppiati. L'inquietudine di base nel periodo adolescenziale è qualcosa di assolutamente fisiologico. Tutti gli adolescenti dalla storia dell'uomo attraverso un periodo molto complicato che noi definiamo proprio di crisi fisiologica dove ci possono essere degli elementi depressivi, degli elementi di inquietudine per l'appunto, per una serie di motivi che ne sto qui a spiegare e laddove la società ci propone di superare questa inquietudine, di non sentire questa depressione, questo senso di magari non adeguatezza eccetera, ci propone di utilizzare una sostanza che riesce ad appiattire queste sensazioni, ad eliminarle e anzi al contrario ad euforizzarci, quindi a permettere delle relazioni sociali molto più facili, molto più smart. E' ovvio che in una situazione di questo genere se non è agevolato questo processo di sviluppo dell'adolescente verso l'età adulta si può incorrere nell'uso di sostanze stupefacenti, anche perché oggi sono veramente molto fruibili e alle merce di tutti. E' ovvio che la facile fruibilità è un elemento che andrebbe contrastato perché appunto porta a molti giovani e sempre più giovani purtroppo ad entrare in contatto con queste sostanze d'abuso, non parliamo soltanto di droghe ma parliamo anche di alcol.